L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18.30 al Circolo di Cultura di Sciacca, dove verrà presentato il libro Partecipazione e cambiamento di Calogero Pumiglia. A conversare con l'autore sarà Massimo D'Antoni. Il libro racconta i cambiamenti politici, sociali e culturali del ventennio tra il 1950 e 1970, quando Pumiglia iniziò il suo impegno politico. Tutto quello che racconto fa in parte della mia memoria, ma è innanzitutto supportato da una precisa documentazione e riguarda un periodo che va dal 1955 al 1972, periodo non scelto a caso, perché coincide con il tempo dell'inizio del mio impegno nell'azione cattolica e tra i giovani della democrazia cristiana di Agrigento e si conclude con la mia elezione a deputato nazionale, quando la Sicilia non fu più l'unico oggetto del mio impegno politico. Attualmente, lo dico così quasi per informare, sto proseguendo il lavoro. Questa volta andrà proprio dal 1972 al 1992, quando si concluse la mia esperienza parlamentare. Che è rivolto questo libro? Non lo so, normalmente si scrivono i libri non tanto pensando a chi li legge, quanto perché si sente un'esigenza personale di farlo. Io ho sentito l'esigenza di dare una testimonianza, non ora perché questo non è il primo libro, e di continuare a darlo finché ne ho la possibilità mentale, spero di averla ancora a lungo naturalmente, perché quello che abbiamo attraversato, letto con le lenti non quelle a colori, per cui tutto è bello, anzi chi legge il libro vede che c'è una forte voglia di prendere le distanze, di essere anche profondamente autocritico, ma dicevo il desiderio di restituire le proprie esperienze. Per chi vuole avere un approccio con questo libro, l'appuntamento quindi è per domani sera al Circolo di Cultura. Alle 18.30, insieme a Massimo D'Antoni che con la sua consueta bravura mi porrà delle domande, speriamo che non mi metta in difficoltà, parleremo di questo libro.